Ben ritrovati dalla redazione di Fones Multimedia in studio Cesare Martignan. In A1 in direzione Roma, coda per traffico intenso tra il bivio A1, variante di Valico e Calenzano. Sul raccordo autostradale Siena-Firenze in direzione Firenze, restringimento di carreggiata tra Tavarnelle e Bargino e restringimento di carreggiata in entrambe le direzioni con doppio senso di circolazione in carreggiata ovest all'altezza di Poggi Bonsi. Sul raccordo Siena-Bettolle per lavori fino al 26 settembre è chiuso lo svincolo di Sinalunga in entrata e in uscita in direzione Siena. Per lavori urgenti chiuso a Firenze via Castelli da via Senese e via Malagotti da viale del Poggio Imperiale. Disaglia la circolazione per incidenti in via Taddea, angolo via Panicale con chiusura della strada. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Altre informazioni e aggiornamenti sui nostri canali social. Buon viaggio! Altre informazioni e revisione a cura di QTSS